Cari amici di TecnoZoom, il menu di questo telefonino Sony Nelson V880i è molto intuitivo. Dotato delle funzionalità principali, come possiamo vedere, file manager, rubrica, funzionalità track ID, caratteristica dei telefonini della serie Walkman che serve per riconoscere da una fonte musicale esterna, il brano e l'autore, registro chiamate, organizer, impostazioni del telefono, play now, funzionalità per la rivoluzione dei brani, internet, giochi, fotocamera da 2 megapixel, messaggi e funzionalità Walkman a cui si può accedere direttamente anche da un tasto sul lato sinistro del telefonino. Funzionalità che caratterizza questi telefonini perché probabilmente vale la pena comprare questo terminale, come possiamo ascoltare direttamente. Altra caratteristica di questo telefonino è la possibilità di alzare e di abbassare l'audio direttamente con un tasto sul lato destro, con un vero lettore MP3.